ciao a tutti amici di infomotori oggi andiamo a cercare un po di montagna e un po di neve per provare nuova subaru forester xv e outback tre auto a trazione integrale motore boxer a quattro cilindri e tanta tanta spinta le proviamo un po sui fondi viscidi nelle situazioni al limite per vedere come si comportano e come bisogna guidare in questi casi con noi anche l'istruttore di guida sicura ufficiale subaru con una sti tutta tutta da mettere di traverso subaru forester andiamo a cercare un po di neve un po di fondi difficili per vedere e mettere alla prova la trazione integrale di quest'auto trazione integrale che viene spiegata attraverso un display che vediamo lì la coppia viene palmata sui due assi a seconda della situazione e qui è pacifico quello che invece mi piace davvero è l'erogazione pastosa di questo boxer quattro cilindri due litri 146 cavalli è davvero molto molto elastico il cambio automatico set rapporti però si può passare anche al sequenziale attraverso i paddol al volante questo per una guida un po più sportiva o se abbiamo bisogno di particolare trazione il rollio è contenuto quando si innesca poi si stabilizza subito e per un'auto di queste dimensioni mi è piaciuto anche il beccheggio molto ridotto quindi non ci sono particolari trasferimenti di carico quando andiamo in frenata o quando spingiamo a fondo sull'acceleratore davvero interessante quest'auto mi piace anche l'infotainment a mappe musica telefono tutto quello che insomma ci si può aspettare da un'auto di nuova generazione quello che invece mi piace della posizione di guida di questo SUV compatto possiamo dire è che è rialzata ma non è eccessiva quindi riusciamo ad avere un ottima visuale periferica di quello che abbiamo intorno di come stanno funzionando le cose e anche nell'unotto posteriore vediamo molto bene perché è davvero ampio mi piace mi piace anche l'handling perché sei molto sicuro alla guida sai dove sta andando la macchina la porti dove vuoi tu e questo è importante anche quando andiamo a fare strade di montagna perfetto perfetto eccolo eccolo fantastico davvero ciao Gianluca abbiamo arrivato ciao mamma mia ciao fattesco siamo qua con Gianluca della driving school Subaru Gianluca ci hai portato in un posto bellissimo lui ha lavorato per 30 anni come istruttore di guida sicura da qui per 15 anni ha lavorato nei pressi di folgaria proprio per insegnare un po' a gestire l'auto in situazione di emergenza grazie intanto di essere venuto qui è un piacere ma senti questa VRX STI cosa ci hai portato oggi? questa VRX è una macchina che lo sai bene è una macchina fenomenale proprio per il sistema di trazione quindi al di là della guida sicura anche per il divertimento eh beh sì che ci vuole sempre partiamo con il nostro test con Gianluca che ci spiegherà un po' come fare con Pietro che è un grandissimo manico del fuoristrada e vediamo come vanno queste tre macchine cercare di fare sempre da un birillo all'altro andarci con una sola sterzata che è quello che dovremmo fare su strada quando effettivamente curviamo eh così chi è dietro e chi è a fianco per ogni curva sente una sterzata e non due però certo ok questa direi che va molto bene ora le prossime le faremo a velocità leggermente più sottometta c'è questa volta abbiamo disinserito l'elettronica del controllo della trazione quindi lo facciamo leggermente più veloce ci divertiremo un pochettino di più cerca di mantenere sempre la fluidità di guida e un uso corretto dello sterzo meno sterzi e più la macchina frena ah giusto ruota dritta più aderenza esatto più abbiamo le ruote dritte più l'ABS lascia la macchina frenare ok perfetto andiamo l'importante è l'approccio alla curva sia come velocità che come traiettorie quindi noi arriveremo in questa direzione dritti dovrai fare una bella frenata specialmente quando abbiamo le ruote dritte dopodiché più allenti la pressione sul freno e più puoi aumentare l'angolo di sterzo ok raggiunta la parte interna della curva più riallinea il volante e più puoi aumentare il gas ok quindi è sempre un equilibrio tra sterzo e gas in uscita e sterzo e freno in entrata per la sicurezza no per la sicurezza per la sicurezza e per la sicurezza il un un sulla neve xv forester e outback c'era anche la sti uno dei punti di forza di subaru direi che sono tre uno è sicuramente la trazione integrale che subaru chiama simmetrica la vd perché questo tipo di trazioni hanno i semi assi di uguale lunghezza tra destra e sinistra e questo vuol dire trasferire alle ruote la stessa forza sia da un lato che dall'altro cosa che difficilmente succede nelle altre auto quindi un lavoro molto equilibrato esatto un lavoro molto equilibrato che permette di sfruttare al 100 per cento l'aderenza senza interventi dell'elettronica il motore box da dei vantaggi che mi avete confermato di avere poi notato anche durante le prove quindi un basso rollio senza avere sospensioni super rigide macchina che è veloce negli inserimenti nei cambi di direzione e l'altro è il cambio automatico lineartronic che si sposa benissimo con i sistemi di trazione che abbiamo è un cambio cvt ma credo che guidandolo potete confermare che in effetti è un cambio notevole senti pietro tu l'XV come l'hai trovata visto che ti si è divertito non poco si diciamo che l'XV secondo me almeno quello che ho provato io a parte che io avevo il cambio manuale e comunque va benissimo sei avvantaggiato che ha il sistema di assistenza alla partenza sia in salire che in scendere nel senso se ti trovi in discesa della retromarcia devi tornare indietro lei ti assiste sempre la trazione fa tutto il lavoro e fa tutto il lavoro prima ne abbiamo provato anche a fermarci in discesa e ritornare indietro la macchina fa mezzo giro la ruota e poi prende subito a me è piaciuta molto la Forester perché ho visto quando nel dove abbiamo fatto le prove non era un fondo particolarmente liscio c'erano buche c'erano dune e la macchina si comportava veramente bene questo è stato veramente allora siamo d'accordo io prendo l'outback che sono uno stradista così siamo a posto uno per uno grande trazione per queste auto sicuramente grazie appunto all'assetto al motore a tutta una serie di cose che evidentemente funzionano insieme l'ultimo le gomme si noi avevamo delle ottime Bridgestone che chiaramente ci hanno aiutato e sì direi che alla fine è inutile avere tanta sofisticazione meccanica elettronica se poi dopo non hai chi la trasferisce le scarpe giuste quello assolutamente beh io direi che un po abbiamo parlato io tornerei subito in pista andiamo e almeno facciamo altri due numeri e via grandissimo ci siamo divertiti moltissimo a provare queste quattro auto non c'era moltissima neve ma ce n'era abbastanza per divertirsi tra l'altro tu Gianluca è un gestisci la Subaru driving school che si occupa proprio di questo insomma sì infatti facciamo dei corsi di guida di vario livello uno è quello che abbiamo visto in parte oggi sulla neve e poi li facciamo anche di guida sicura di guida sportiva e anche un offroad leggero per chi ha i SUV o i crossover e quindi vuole provare la giusta e breve sì lo sterrato ecco quel punto lì sterrato e posti belli comunque bene dai pietro tu hai dato del gran gas ti sei divertito hai fatto dei bei numeri cosa mi si si oggi è stata una bella giornata anche il tempo è stato dalla nostra una volta tanto e macchine fantastiche trazione come diceva anche lui è il punto di forza della Subaru qui abbiamo avuto anche la possibilità di vedere provare le sti che penso sia il top di gamma della Subaru per chi vuol divertirsi veramente speriamo che la prossima volta ci sia un po più neve e che soprattutto sia breve bene dai da folgaria vi salutiamo ciao a tutti seguiteci su infomotori ciao a tutti